Sì, dicendo in Italia, che vuoi dire? Io da questo, non questa proposta, e se vuoi decidere il nostro concorso. Bene, io ho una rispondo, e quando lei ha parlato di, ha rifatto un po' lì, ancora che si vuole, che è andata via, non solo motivo per cui si è tenuto il cammino, ma ha parlato anche di rispettiva di rispettiva, che ha causato la rispettiva, e ha credo di rispettiva di rispettiva di rispettiva, e quindi rispettiva di rispettiva di rispettiva e di rispettiva di rispettiva. E allora, non ci rispetto male, ma quelli che hanno aggiornato una situazione di rispettiva e di rispettiva, e quindi nel momento in cui lei arriva a questo punto, molti del suo disagio, condisce, e noi dobbiamo sapere di parlare del temale, il stato, no, il piano interno è stato appassato nell'argomento per parlare di situazione di risoluzione e adesso bisogna venire con gli occhi di un'altra situazione di risoluzione grazie a lei grazie donto? eh, come tu, salve, sono a un'altra persona sì volevo sapere una cosa, io sono un po' mi trovo abbattatemi sempre indietro non perché io lo ringrazio tra l'altro perché comunque non avevo visto questa cosa sotto questo punto di vista e entro in una condizione proprio che mi sento collocata collocata per i cori mettata tra i cori e i miei e i miei sono stati con gli altri e non so che mi viene da fuori non mi viene da fuori se c'è un po' se posso fare tra l'altro di quanto adesso non è ancora e però diciamo certi psicologi magari dicono una condizione che sta appunto per la fine queste cose quindi avrei diciamo perché io consiglio questo è un po' che è arrivata lei cercherò di dare una risposta a qualcun'è una scelta una scelta di uno Stato e la sua condizione di iniziare che vi fa un percorso che probabilmente questo percorso che sta facendo delle altre non di sapere che annunciati e la nuova e il pubblico e per tutti che può fare che l'uomo può dare un senso insonisitato a quello che ha vissuto e se ha vissuto fino adesso è la differenza di questi ibori titolamente questa differenza di spaventare un cambiamento che è attuale se non ho anche il cambiamento non si piaccia dal passato una scelta positiva al passato come abbiamo detto è chiaro che per fare questo c'è bisogno come per rispondere nell'anno che sono precedente e che ne guarda agli occhi del passato quando quegli occhi si l'ha evitata ad essere questo che solo potrebbe la sofferenza di alcuni si rilancia a quello che non è che sarà fatto un processo di suonazione psicologica che non può dare la sofferenza questa sensibilità della stessa della stessa di mezzo che si controlla la sofferenza Grazie a tutti. 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 No. 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 Il nuovo calo è stato alto in Europa, sopra il meno 4,6% e ha perduto il 2,8%. Il nuovo calo è stato alto per l'Europa, il 27, ma in senso si parallizza e ha dovuto registrare il meno 4,6% a settembre per il meno 4,6%. Il nuovo calo è stato alto in Europa, sopra il meno 4,6% e ha dovuto registrare il meno 4,6%. 8 arresti e 17 preposizioni a Roma e in altri stati della Polizia di Stato per l'azione dell'ambito della Università e dell'Avora della Capitale Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.